Allora siamo qua con Locatelli, tu sei Scalera, io me lo ricordo, tu sei Locatelli, ma parli in terza persona oggi o no? Parlo a nome di Saragoni e basta, ma è vero che noi siamo cosa rispetto alle moto? Siamo intolleranti, perché non avete il disegno, lo skyline del posto fisico che ha un disegno da più norto. Il nero strige, ma tu ancora vai in motocicletta? Poco e quando me lo chiedono. Ma è vero che chi non sa insegna? Siete i soliti? Guarda, qui abbiamo dietro di noi, abbiamo anche l'uomo più bello del palco, che una volta naturalmente grazie. Ci puoi dire qualcosa di Agostini, dei tempi d'oro, di Ediloso? Ah, bellissimo, tempi che non torneranno più lungo. Com'era avere Agostini? Come manager. Come manager, perché voglio dire, oggi abbiamo Locatelli. Una passeggiata, era una persona troppo precisa, quindi è stato molto bello per me, è stata un'esperienza incredibile. È ancora tuttora il numero uno. Lucatelli, hai capito? Ci credo, Bergamasco, ci credo. Si parla da voce buona. Lui ha detto che noi siamo intolleranti alla moto, capito? Sì. Volevano da un coach come me un insegnamento. Tu hai scritto un altro. Mi ricordo che ho dei soldi, non lo gli abbiamo dato e lui ha capito. È scappato perché Sky non pagava abbastanza. Prima c'era la visita. Prima c'era la visita. Io vi lascio che devo fare, ciao. Vi lasciamo pure noi. Ciao Locatelli. Ciao ragazzi.